Loro sono Sole e Luna. Sono due cuccioli di circa 7-8 mesi. Molto probabilmente sono stati abbandonati da un pastore perché venivano da una cucciolata troppo numerosa. Erano in una situazione molto grave quando sono stati trovati, infatti erano malnutriti, spaventati. Per loro l'ideale sarebbe un'adozione di coppia perché loro vivono in simbiosi. Adottateli perché sono molto vivaci i giocherelloni e vi farebbero moltissima compagnia. L'abbandono di intere cucciolate è purtroppo un deplorevole fenomeno che continua a riproporsi e che fa torto al grande cuore animalista degli italiani perché il nostro è un popolo che ama gli animali e che condanna queste cose. Eppure ancora non siamo riusciti a sconfiggere l'abbandono e il randagismo. Io ho dedicato la mia vita alla tutela degli animali e dei loro diritti e vi assicuro che non mi fermerò finché non ci sarò riuscita. Ma intanto vi prego diamo una casa a questa meravigliosa coppia che sarebbe anche bello non dividere. E vi do subito il numero di telefono del rifugio di Osaia il 389 1572 256 Oppure come al solito potete scrivere a Porta Mia Casa a chiocciola dalla parte degli animali.